Cucu! Siete molto legati tu a tua sorella. Dove essere stata dura. Intendo crescere una figlia da sola. Stai barando! Pare che l'attentato sia stato compiuto da quattro uomini La follia omicida ha ammietuto vittime tra gruppi di amici, coppie E' strano, dov'è la mamma? Scusa Non riesco a credere che sia successo 15 anni più di Amanda, almeno li ha Ma certo, lei ne ha 7 e io 24 Quindi a livello legale può esserne tutore Non avrei mai immaginato di dovermi occupare di lei Non ce l'ho un'idea di come... del nostro futuro Non ho voglia di andare via La ripeti domani, Razia Mod? Io non voglio cambiare casa ogni sera Non so come regolarmi con una bambina, non conosco le parole giuste, non so che cosa cucinare Come faccio a gestire questa situazione? Amanda ha bisogno di te, ne ha un bisogno immediato A volte sembra che sia lei a sostenere me Avanti tutta! Non ho la raddizia! Pensi di potermi sopportare? Tutti i giorni? Tutti i giorni Non sei così male Non so come faccio a gestire questa situazione? Non so come faccio a gestire questa situazione? Non so come faccio a gestire questa situazione? No ho faccio a gestire questa situazione? Terno gruppe non so come faccio a gestire questa situazione